Siamo veramente contenti perché abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo tra l'altro per il terzo anno di fila, c'è grande soddisfazione da parte di tutti sono molto contento per i ragazzi perché hanno fatto un percorso straordinario quest'anno un grande lavoro che è stato cronato da questo risultato importante sono contento per lo staff tecnico che ha fatto un grande lavoro ed è importantissimo per questi ragazzi per la società che ci mette sempre alle condizioni migliori Dario Baccini e Sandro Porchia che hanno sempre un sostegno costante quindi c'è grande soddisfazione da parte di tutti Come ricordava lei per il terzo anno di fila il Palermo è tra le migliori otto d'Italia Sì, questa è una grande soddisfazione anche perché è una cosa che è successa in questi tre anni soltanto a noi, Roma, Juventus e Inter quindi insomma essere per il terzo anno di fila assieme a queste società sempre presenti alle fasi finali vuol dire che si sta lavorando bene, vuol dire che il percorso del settore giovane del Palermo va nella direzione giusta Qual è stata la partita più difficile di questa stagione? Ma alla fine insomma quelle dei playoff perché sono state quelle decisive, quelle determinanti poi per l'accesso alle fasi finali quindi direi quella di domenica con la Sampdoria Il vostro gironcino aspettando quelle che saranno poi le date precise è già comunque definito sfiderete la Juventus, sfiderete l'Inter e sfiderete il Napoli Siete pronti? Cosa avete in mente per queste partite? Chiaramente è un girone difficile così come è l'altro è chiaro che quando arrivi alle fasi finali incontri squadre forti, squadre di grande livello Noi proveremo come sempre a fare il massimo di quello che è nelle nostre possibilità cercando come obiettivo di porci quello delle semifinali perché non le abbiamo mai raggiunte anche se abbiamo fatto sempre le ottime partite sia l'anno scorso che due anni fa avremmo sicuramente meritato qualcosa in più e quest'anno come obiettivo ci poniamo quello delle semifinali ma soprattutto quello di fare bella figura e quello di dare tutto quello che possiamo dare Una gioia che avete regalato anche ai tanti tifosi che domenica sono venuti a vedervi Sì, sono stati importanti, ci hanno dato un grande supporto ringrazio tutti quelli che sono venuti perché giocare in un clima come quello di domenica è sicuramente una cosa bella e gratificante anche per i ragazzi